Ehi la ciurma! Ci troviamo oggi su Guardians of Ember e... proviamolo! Allora, innanzitutto bisogna creare un personaggio, allora, razza, umano, elfo, nano o... Nei, no, facciamo umano va? Sì. Ok, next. Allora, genere... maschio o femmina? Ma la femmina ci sta, dai, in onore del mio personaggio su Black Desert. Classe Ranger, Prete, Arcane, Dark Knight, Engineer, Ignite. No, Ranger direi. Yes. Appearance Primary Hair Color. No, ma va bene. Il colore degli occhi va bene. Anche il colore delle labbra? No, no, va bene così. Faccia va bene, capelli... Forse questi? No, la compenetrazione è così, no. Meglio gli altri, allora, a questo punto. Erano quei... no. Era... Uh, con la coda! Sì, no, dai, con la coda va bene. Eh... Paddy, vabbè. Ok, va bene, facciamo così. Sì, ci sta. Eeeh... Chiamiamola... Visto che è donna, c'è la Zad. Eeeh... Eeeh... Vai. Dovrebbe essere... Credo un MMO? Penso. Da quel che ho letto. Però ho fatto tipo... Diverso, tipo... Eh. Vediamo un attimo se vale qualcosa. Ah, VSD. Ok. Ah, ok. Sì, è tipo un hack and slash fatto a MMO, in pratica. Sì, no, conviene di più usare VSD per muovermi, effettivamente. Left click, ok. Sì. Dove devo andare adesso? Claim reward. Va bene. Ah, devo proseguire. Ok, ottimo. Undici, credo, monete. Non lo so. Guarda come falciamo tutto. Sì, però, se continui a beccare la porta. Mi ricorda un po'... Skill e characta. Allora. Skill. Ok. Allora, questa è... 70% a tutti i nemici. Attacco critico più 0,5. Attacco speed più 0,7. Andiamo con questo. Ok. Ok, non abbiamo più punti. Health point modifier. Vai. Ah, no, perché abbiamo speso quelli, forse, allora. Non posso toglierla adesso, quella, eh. Mi sa... No. Ah, posso trascinarle sotto. Prima avevo questa. Ah, come pulsante sinistro. Ok. Ok. Mentre invece con C Ah, più prestigio, più attacco critico, più resistenza. Braver mi dà un sacco di damage a tutti i tipi. Blood ha altri tipi di damage. Focus mi dà più attack speed e più block chance. Credo che andrò di... No, aspetta, però... Magari non tutto... Vabbè. Niente. Non volevo assegnare tutto a quello, ma... Vabbè. Non posso annullarlo. Non mi piace, però, no. No, questo skill non mi piace. Preferivo quello di prima. Questo cos'è? Diving arrows. Ah, bouncing sphere è questo qua, quello col destro. Com'è? Che non è male. Ma non lo so, forse preferivo l'attacco di prima. K perché? Cosa? Ho degli altri punti? Dove li vedo i punti? Poi, tra l'altro. No, perché... Eh, sì, ma... Vabbè. Ah, andiamo ad aprire anche questo. No, è comodo quando è così, ma... Se no, la distanza no. Ma il... L'abilità secondaria usa consuma mana? Questo vediamo. Sì, è parecchio anche. Questa invece ne consuma. No, mi sa di no. Ma per ora proviamo a tenere questa, ma... Ma non lo so quale terror, effettivamente. Per ora, graficamente, è abbastanza... Poco gradevole, ma... Ah, no, perché non dovevo ucciderlo. Cos'è questo? No, la cutscene mi sta piacendo. No, vabbè, come animazione è un po' stupido, però... Vabbè. Non è un AAA, questo si vede. Aia. Non ho un dash né niente. Vabbè, è andato. Ok, sì, mi dice che... Ok, completiamo il tutorial su scappati goblin. Ok, dov'è andare... Va bene, uccidili tutti. Ok, ci sta... Dove vanno? Nelle miniere? Ah, dice... Fermo, li fai vedere... Voi, cos'è? Perché un altro caricamento? Ah, Rye Ridge. Ci sono delle missioni. Peter è uno dei miei amici... Ehm... Va bene. No, come grafica è molto brutto. Però non mi dispiace per ora come stile di... Ah, saltare salta, ma... Rotola? No. Non credo. Un Weepo? No! Però mi piace come idea, no? Di un MMO fatto... Dovrebbe essere un MMO, ma in realtà vedo solo le parti da... Vedo solo le parti da... Hacken Slash. Prendiamo anche la quest delay. Va bene. Non ho letto cos'è, ma... Perché non ho voglia di perderci troppo tempo. Ah no, Kayleen. Forse è una giocatrice. Ah, sì, no. Allora sì che è un MMO. Niente, ho rotto il gioco. Probabilmente ci sono i mostri che respawnano e tante altre cose del genere, tipo... Ogni... M... M... O... Abbiamo dei marker per le quest? Sì. Ok, tenere premuto. Continua ad attaccare. Vediamo se riusciamo a... Eh, ecco, così è ottimo. Muovendosi. Ok, come ogni buon MMO, i mostri si allontanano troppo dal loro punto di partenza. Ci ritornano con vita piena. Allora, è là in su che ci sono... Vedo tutte delle stelline e là su, ma non so che cosa siano in realtà. Tipo qua, cos'ho? Ah, ho degli altri punti, posso segnare. Farei... Uno, due, tre. Vai. Qua inventory... Ah, ho della roba nuova. Questi sono migliori? Ah, no, ma il livello è troppo basso. E potete insegnarmeli, tipo, diversi, che sono di livello troppo basso? Ok. Boh. Ember items. Sì. Skill... Ok, ho dei punti in più. Ah, passive. Ma sono tutte bloccate. Primary class. Ah, c'ho questa di nuova. Più danno o più probabilità di colpire? Più danno. Più danno. No, 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 non ho più punti. Ma non ho capito dove li vedo i punti, però. Forse qua sotto. Eh, adesso non lo so più. World map. Ah. Rye Ridge. Beh, è abbastanza grande sta mappa. Posso... Muoverla, no. Ah, bookmark your teleportation site. Ah, ok. Costa un tot probabilmente per te la trasportami là. Achievement. Ehm... 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 Adesso ho upgradeato la... La skill dovrebbe essere più forte. Ma che poi io avevo preso quella con l'arco? Non capisco perché c'è il moschetto qua. Allora forse perché è quello che piccato... Che ho equipato io. Dove... Ehm... No. L'inventario non si apre con la I? Con la B. Perché? Beginner's longbow. Eh... Però no, fa più danni di quello che ho adesso. Ma è un peccato, cioè... Ah! Uh! Charge slot. Manca... Ah, sì, ho un punto. Facciamo qua. Più critico e proviamo a rimettere un attimo questa come prima. Adesso il focus è solo uno, ma dovrebbe fare più danni. Allora, c'ho un segnalino qua che non so se è una quest o che. C'era qualcosa che lampeggiava di qua. Ehi, sono un sacco. Effettivamente forse quella... Ad arco non era male. Ok... No, ma c'è qualcosa che... Ah, lassù? Come ci arrivo sopra la casetta, però? Sopra questa casupola qua. Forse facendo il giro... Di qua? No. No. Ah, va uno scudo, ovviamente. Un coniglio. Ah, fishing, exploring, mining, daily log, group finder... Eh, essendo un MMO ci saranno un sacco di robe. Ah, potevo salire là sopra. Ah, l'ho ucciso. Buono. Ma credo avesse più vita. Mi sembra ne avesse un quintiliardo di vita. Dobbiamo recuperare un po'. Potrei tipo mettere come seconda... No, forse quella con il secondo tasto del mouse dovesse per forza di quella a destra. Cioè che l'attacco primario e l'attacco secondario sono stabiliti dal tipo di skill. Vediamo. Eh, sì. Quindi o scelgo questa o ne scelgo un'altra. Ah, c'è qualcun altro che combatte come noi. Ciao, bella. Come si chiama? Polgam... Polgara. Sì, è molto più pro di noi. Ok, dai, ti raggiungiamo. Siamo con te. Ah, c'è un tizio qua. Che ci ha dato uno qua. Abbiamo completato uno a questo ma ce n'è data un'altra comunque. Che? Livello sono? Che non mi ricordo mica più. Ah, al 4 sono. No, cosa ho usato? No, mi sa che ho usato una pozione, sì. E mi sa che... Scusa, ma... La... Questo è là. Dove devo andare? Ancora più in su. Ah, ho tre punti ancora. Facciamo così. Inventario. Mi ha dato della roba nuova. Però questa mi sta rubando tutto il farm. Porca miseria. Eh, livello 5 forse non è l'ideale. Dai. Dai. Boh, provo a invitarlo come mica Ma Dubito, non so neanche come si facciano A vedere gli amici Ma carino Ma niente di che per ora Cioè No, pum Cioè, boh Non mi aggiunge niente rispetto ad un altro MMO Generico, ecco Ah, il loot è diviso, cioè Io sto Vabbè, facciamo che Exit game Sì Ciao Vabbè Grazie mille della visione Vi invito a lasciare un mi piace E niente Questo È Quanto Ciao a tutti Ciao a tutti